Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni, ospite in studio il Presidente dell'Associazione Bellonesi nel Mondo, Oscar De Bona, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. C'è solito un appuntamento importante, ormai una consuetudine, visto che siamo arrivati alla ventesima edizione, con il premio Bellonesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel mondo. Una ventesima edizione che si svolge dove? Si svolgerà in Comune di Chiesa del Pago e più precisamente a San Martino di Chiesa del Pago, in quella bellissima struttura che è stata recentemente inaugurata dal Comune. approfitto per ringraziare il Sindaco e la comunità di Chiesa e anche tutto il mondo della scuola della Conca dell'Alpago, perché anche per questa ventesima edizione, quindi sono passati vent'anni dalla istituzione di questo premio, sono stati coinvolti i ragazzi delle scuole e quindi alcune centinaia di questi ragazzi riempiranno l'aula, la sala del teatro, ma nello stesso tempo attraverso anche i maestri e le maestre potranno anche presentare qualcosa che riguarda il tema dell'immigrazione. Quest'anno i premi non saranno, i premiati non saranno tre, ma bensì quattro, perché ci sono due ex equo. E poi avremo un premio speciale che è arrivato alla prima edizione, che si chiama Premio Barcelloni Corte Vincenzo Patrizio De Martín Modolado, che sono il presidente e fondatore dell'ABM e il direttore storico, che purtroppo sono mancati nei mesi scorsi e quindi questo premio speciale sarà la sua prima edizione e porterà il nome di questi due grandi personaggi che hanno dato tantissimo all'associazione. Quindi non sarà un fatto legato solo a questa nuolità, ma si perseguirà? Sempre e il tema non sarà quello classico dell'immigrazione, ma sarà legato soprattutto alla fuga dei cervelli o comunque a quali sono stati i risultati conseguiti dai nostri giovani e meno giovani che nella loro attività professionale e occupazionale lavorano distante da casa. Il premio di quest'anno sarà una donna. Una donna. Non sarà certo un problema scegliere comunque i candidati, visto che i bellonesi nel mondo sono tantissimi e coloro che si sono distinti sono molti e alcuni di questi con attività e operazioni economiche incredibili. E poi avremo anche due persone anziane nei quattro premiati all'interno del classico appuntamento e sono due persone che hanno superato i 95 anni e che hanno garantito che ci saranno fisicamente perché una delle clausole del premio è che il premiato deve essere presente. Nel limite naturalmente del possibile perché è capitato che poi all'ultimo momento ci sono stati... Sì, è capitato. Infatti noi abbiamo il premio a Don... a... quello di Abele, gruppo Abele, Don Ciotti che sono tre anni che dovevamo premiarlo e sono tre anni che non riesce a dire di essere presente durante la data che noi fissiamo ben sei mesi prima e quindi lo abbiamo spostato anche quest'anno sperando che il prossimo anno ci sia. C'è una scelta o comunque una selezione che riguarda anche le nazioni nei quali i bellunesi sono andati? No, perché per esempio è molto difficile trovare delle segnalazioni o delle candidature sul settore del sociale, mentre il sociale quest'anno sarà una donna che arriverà che opera a Milano, mentre per quanto riguarda il settore economico abbiamo diverse candidature, è un po' più... non è facile individuare le persone giuste perché ci sono tante candidature quindi... però la Commissione tiene conto anche per gli anni successivi e quindi, se non ci sono ulteriori proposte più interessanti, di recuperare anche coloro che sono stati segnalati negli anni addietro e che non sono stati scelti. Allora, ricordiamo il 14 dicembre, questa è una manifestazione aperta a tutti, tutti possono partecipare. Visto che li abbiamo citati, Vincenzo Barcelloni Corte è il fondatore di questa associazione. È una persona che ha dedicato tutta la sua vita perché poi non è stato solo il fondatore, il presidente per 15 anni ma è stato direttore responsabile del nostro mensile che è esso ininterrottamente da 54 anni fino a 3-4 anni fa insomma, no? E comunque era sempre presente fino all'ultimo per quanto riguarda alcuni articoli di fondo, alcuni editoriali, sempre sul tema dello spopolamento della montagna, della difficoltà di riconoscere che in montagna ci devono essere i servizi per migliorare i collegamenti a nord sia col treno sia con la strada. È stata una persona che si è battuta tantissimo per raggiungere l'autonomia della nostra provincia o quantomeno avere una differenziale molto più ridotto rispetto alle province autonome. È stato lungimirante, un sognatore ma però anche concreto. È stato lui insieme al direttore De Martini che ha fatto la grande scelta poi di fare l'acquisto nella sede dove noi siamo con dei mutui, sollecitando e avendo un risultato eccezionale da parte delle nostre comunità nel mondo perché ricordo che il 60% del costo di tutta la struttura che sono 600 metri quadri in centro Belluno è stato pagato dai soci. Ma qual è stato il seme che ha originato questa idea? È stata la tragedia di Matmar, dieci anni prima c'era stata la tragedia di Marcinelle però probabilmente non erano pronti, non si era pronti, non c'erano le persone che avevano avuto la sensibilità che ha avuto dieci anni dopo Vincenzo Barcelloni Corte che non ha individuato solo la necessità di avere un'associazione perché si occupasse delle nostre comunità che allora erano principalmente quelle dell'Europa, la Svizzera, il Belgio, la Germania, la Francia alcuni paesi dell'ex Jugoslavia, non sapevamo della dimensione della presenza degli italiani dei Veneti e dei Bellunesi in particolare in Sud America. E lì lui è partito e nello stesso tempo come quando si parte e si fa nascere una nuova azienda della nuova società, lui ha saputo anche pensare di individuare quello che poteva essere il capo, il direttore, quello che si occupava tutti i giorni di queste enormi e tantissime problematiche che non trovavano una risposta da parte di un'istituzione pubblica, non c'era che si occupava di questo. C'erano i sindacati, c'erano i patronati, soprattutto legati alla Chiesa, che facevano un'assistenza e quindi lui ha avuto questa lungimirante idea accompagnata dal fatto anche che qualche associazione di qualche altra provincia tipo i Vicentini erano nati prima e quindi c'è stato anche questo esempio e questo riferimento a cui poter attingere e poi sapendo se è il direttore, perché se il direttore non è capace, non conosce le problematiche, l'attività dell'associazione sarebbe stata molto più frenata. E qui passiamo alla seconda persona da ricordare doverosamente, che aveva un'esperienza importante, anche perché lui stesso è stato un emigrante, mi pare a differenza di Vincenzo. Lui era a Zurigo e quando con il vescovo Mucin l'ingegner Barcelloni Corte ha insediato praticamente la prima famiglia dei belunesi della Svizzera, ricordo che poi nel massimo splendore siamo arrivati ad avere 22 famiglie in 22 città diverse della Svizzera, oggi ne abbiamo ancora 16. Ha individuato questo giovane ragazzo che veramente era appassionato, era preciso, era competente, era come si dico io tedesco, proprio di una correttezza e di una precisione. L'ultimo pensiero che non avrei mai pensato che fosse l'ultimo prima che gli venisse questa emorragia celebrale è stato nel consiglio di redazione del giornale, dove lui sempre da oltre 50 anni arrivava con il suo foglietto, con tutti gli appunti ordinati, tutti orizzontali, precisi, con sta bellissima calligrafia e là c'era dentro tutto quello che lui aveva esaminato facendo la rassegna stampa dei 25 giorni precedenti all'ultimo incontro del comitato di redazione. Oggi ci manca tantissimo perché è vero che oggi tutto è cambiato e quindi il 70-80% si fa con nuovi mezzi di comunicazione, però quel 20-30% che non si fa con i mezzi di comunicazione che è legato ancora alla tradizionale attività ci manca, ci manca perché lui sapeva dove mettere le mani in qualsiasi scaffale, in qualsiasi cassetto. Voi siete anche previdenti, forse anche un po' fortunati perché avete affiancato a De Martini l'attuale direttore. Diciamo che è stata fatta una scelta intelligente soprattutto perché abbiamo avuto due protagonisti intelligenti e bravi, sia il vecchio direttore Patrizio sia il nuovo Marco perché c'è stato il passaggio delle consegne in pace, consensuale, non è avvenuto quello che è avvenuto in altre associazioni provinciali o regionali laddove invece la situazione non è avvenuta in questo modo e alcune di queste hanno anche chiuso l'attività. Allora un omaggio doveroso sia a Vincenzo Barcelloni Corte che a Patrizio De Martina Modolado e adesso parliamo di un argomento interessante perché si dice che un po' alla volta potrebbero andarsi a spegnere queste associazioni perché non c'è più l'affetto all'estero per la madre patria, invece così non è a meno a giudicare da tre nuove famiglie che si costituiscono nello Stato di Santa Catarina che è uno Stato del Brasile. Sì, è uno Stato in cui il 50% della popolazione è di origine italiana, il 25% è di origine tedesca, l'11% di origine polacca, poi ci sono 2-3% di austriaci, un paio, 1-2% di francesi. Però se facciamo la sommatoria arriviamo molto vicino a 100. In questa realtà noi abbiamo già 11 famiglie, se ne aggiungono tre, quella di Iomerè, quella di Pinnazzinio e quella di Pineiro Preto, sono tutte all'interno, sono tutti paesi agricoli o vinicoli, però abbiamo portato via quasi 300 tessere di nuovi soci e nel caso di Iomerè c'è stata anche la firma del patto di amicizia tra il comune di Iomerè e il comune di Lamont dove c'è una forte tradizione di molte famiglie che sono partite da Lamont e sono andate ad abitare a Iomerè. A riguardo a questo patto di amicizia ci sono anche alcune curiosità? Beh sì, per esempio quelli che avevano costruito la chiesa di Lamont, una parte di questi operai, di questi lavoratori, di questi muratori sono emigrati in Brasile e lì hanno cercato di costruire una chiesa che avesse delle caratteristiche simili a quella di Lamont, almeno come si ricordavano. Ovviamente dovendo adattarsi ai materiali che hanno trovato in terra brasiliana. La stessa cosa è avvenuta in altri comuni del Veneto, per esempio faccio un esempio, il comune di San Biagio di Calalta ha il campanile che è uguale, identico a quello che c'è in questo paese del Rio Grande do Sul, in Brasile in questo caso. Poi abbiamo una nuova fase molto interessante perché per esempio anche il nuovo comune di Borgo Valbelluna, parlando col sindaco qualche giorno prima di partire, aveva firmato tanti anni fa un patto di amicizia. Adesso che sono stati assorbiti l'entiaia e trichiana che erano già gemerati con altre realtà, il comune di Borgo Valbelluna comincia ad avere 5-6 parti di amicizia, non solo con il Brasile ma anche con il Messico e c'è l'intenzione di riprendere fortemente l'attività come sta avvenendo per esempio col comune dell'Alpago, col comune di Auronzo, col comune di Longarone, Val di Zoldo, la destra, la sinistra Piave, il Feltrino, ci sono veramente il Lago Ordino, abbiamo 4-5 comuni che hanno il patto di amicizia con un altro paese sempre di Santa Caterina. Tra l'altro la regione ci finanzia il progetto Anziani Over 65 anni che non hanno mai visitato la terra dei loro avi e quindi questo aiuta moltissimo insieme allo scambio dei giovani che viene fatto coinvolgendo le nostre famiglie che li accogliono a casa e quelle del Brasile per quanto riguarda i nostri ragazzi. Voi proprio per evitare che si spenga questa fiamma che ha bruciato sino ad oggi per più di 50 anni avete messo in piedi l'iniziativa Belluno Radici che sta andando avanti a qualche upgrade. Diciamo che negli ultimi anni ha avuto una bellissima spinta, ricordo l'appuntamento dell'anno scorso all'interno della fabbrica Unifarco per quanto riguarda le tematiche legate alla bellezza, il benessere e ai prodotti che Unifarco esporta in tutto il mondo. Quest'anno, il 28 di dicembre, si terrà a Santo Stefano di Cadore in collaborazione con lo studio DBA dei fratelli De Betin che sono all'avanguardia a livello internazionale. hanno, tanto per dare dei numeri, oltre 800 ingegneri alle loro dipendenze, trattano le autostrade telematiche, quello che riguarda le metropolitane, gli aeroporti, cioè è una specializzazione dell'ingegneria moderna che questi fratelli con i loro collaboratori hanno veramente saputo cogliere a pieno con grandi capacità e oggi sono un punto riferimento a livello mondiale. E tutto questo si inserisce anche nella tematica della fuga di cervelli dal nostro Paese. Della fuga dei cervelli, perché ogni anno cerchiamo di affrontare un tema diverso. Abbiamo fatto gli architetti, i medici, i ricercatori, poi con il benessere, l'Unifarco, quest'anno con gli ingegneri informatici e quindi avremo delle testimonianze all'interno della DBA, della ditta ai fratelli De Betin e anche dei ragazzi o delle ragazze che saranno qui, perché in questo periodo lo facciamo a Natale perché vengono a trovare i parenti e quindi parteciperanno anche a questo evento che si terrà in maniera itinerante quest'anno a Santo Stefano di Cadore. Queste persone che vanno all'estero possono però diventare degli ambasciatori per portare in giro i prodotti, ad esempio, della nostra terra. Voi fate un'operazione, visto che andate in Brasile, sullo stato vicino a Cariodo Sul, che è un altro stato con forte presenza di italiani. A Gramado, che sarebbe la cortina d'ampezzo del Sud America. Ci sono oltre 400 alberghi in questa città, incredibile, bisogna andare a vederla. Abbiamo fatto una serata dedicata a tutti gli albergatori aderenti all'associazione, presieduti da un vicentino di origine vicentina, facendo assaggiare loro durante il festival della gastronomia del Brasile, che si è tenuto a Gramado, facendo assaggiare praticamente il formaggio Piaveoro. È un'iniziativa che abbiamo fatto e ringrazio Latte Busche per la disponibilità, perché da un po' di tempo sono riusciti a superare i problemi dell'importazione, quindi hanno degli importatori ufficialmente riconosciuti. Poi l'accordo tra Mercosul e l'Unione Europea ha inserito anche il formaggio di Latte Busche all'interno degli scambi, quindi ci sono più le problematiche che c'erano fino a un paio di mesi fa e quindi noi speriamo che con questa iniziativa che abbiamo fatto, che ha riscosso molto successo, anche gli ordini a Latte Busche possano aumentare. L'associazione Emigranti ha tra le proprie fila anche molti che continuano a lavorare all'estero, però hanno una residenza in Italia e questo ha creato un problema per quanto riguarda le nuove normative sul possesso e la proprietà delle automobili. Diciamo che questa è un'Europa senza confini, però rimangono dei forti confini fiscali. Ma guarda, qui è una telenovela vergognosa che dimostra come non funzionano certe cose nel nostro Paese. Nel nostro Paese o in Europa? No, nel nostro Paese perché chi ci governa a livello nazionale, almeno per quelli che c'erano prima, per quelli che ci sono adesso ancora, non ho visto degli atti precisi su questo argomento, praticamente ci hanno sempre suggerito di fare ricorso all'Europa che l'Europa ci avrebbe dato ragione, per non andare a modificare il decreto che era stato fatto. Oppure l'alternativa è iscrivetevi all'aere, ma è come dire che non si vuole modificare precisando meglio come per i trasportalieri che ci sono in Lombardia, come per i lavoratori di San Marino non ho capito perché non si poteva individuare anche i lavoratori che vengono sempre decantati anche dalle nostre autorità, che sono questa nicchia importantissima dei gelatieri artigianali che dal nord-est partono e vanno soprattutto nei Paesi di lingua tedesca. Dicono iscrivetevi all'aere, ma se si iscrivono all'aere creano altri problemi al Comune e quindi invece che andare a risolvere il problema che non sarebbe costato niente facendo soltanto una precisazione, si è ancora lì che si discute e addirittura questa volta l'Europa va bene perché se fai ricorso all'Europa l'Europa ti dà ragione. È una belle novella vergognosa, io spero solo che i nostri rappresentanti parlamentari invece di dire io ho provato però non c'è niente da fare, battano colpo, facciano come il povero ex sindaco Denale di Arsie, prendono la scarpa e la battano alla Khrushchev, ma io preferisco Denale, Mario Denale, grandissimo sindaco. Abbiamo risolvito il tempo a nostra disposizione, siamo stati con Oscar De Bona, Presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo che ringrazio, vi ricordo il primo appuntamento che è quello del 14 di dicembre a San Martino nel comune di Chiesa del Pago e successivamente a Santo Stefano di Cadore il 28 di dicembre per belluno.net. Grazie a Oscar De Bona, grazie a voi per averci seguito e buona serata. Grazie a voi per averci seguito e buona serata.